Sveglia! 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 Ehi! Sveglia di! Sveglia di! Sveglia di! Che! Che fai là! Che stai facendo? Che fai gustare qui da mia madre? Ma che stai cominciando? Che spettacolo? ma quando non c'è l'osso, ma stiamo tornando a croce rosso, ma stiamo tornando a Giano, stiamo tornando a Pernico che mi metteva un microfono, ci viene pure, vabbè, stiamo parlando il spettacolo, ma ero un suono però ma che sono? stiamo qua, non è il teatro, ma quando, quando è il teatro? ma perché non è il teatro? guarda, non è il teatro, ma quando non è il teatro? ma come si va a mettere questo genere? buona sera, come è? ci state? allora, ehi, scatate, andrà bella, e che? capisco che siamo in pochi, capisco che avete ragione, che stiamo pronti, ho 50 milioni, 90 milioni a ponte di silenzio, e una dose, 2, 3, 4 dose., tra poco, gli isti ci portano questa backniana, e noi tutto quanto, andiamo tutti tossici, non si capisce nè di più, anche da poco incredibile, una volta, è vero questo, il del sacco, quando mettiamo il mare il del sacco, sulleva qualcosa di soldi, qualche spiccia, un mazzigliato, un pochetto uomino, un mascherino, nel cielo, ma come è possibile? avete fatto benevincenza per la croce rossa? avete dato? E' una serata molto importante, una serata di calore, di divertimento per sdrammatizzare un po' questo periodo che purtroppo si protrae e quindi le preoccupazioni di tutti i giorni, il pensiero che possa purtroppo peggiorare la situazione con i contagi. Questa sera noi la dedichiamo grazie ai nostri amici che hanno accettato il nostro invito e spero di poter dare un po' di tranquillità e un sorriso a tutti i presenti. La Croce Rossa ha dimostrato, specialmente in questi ultimi mesi così difficili, di essere fondamentale per la città di Agropoli. Ha saputo veramente con grande impegno mettere in disposizione dei suoi cittadini e credo veramente di interpretare un sentimento unanime nel volervi ringraziare per quanto avete fatto, quando state facendo e quando sicuramente farete anche per il futuro. una comunità che si fregge di avere un'organizzazione così importante con tanta passione e tanta voglia non può che essere felice ed orgogliosa, quindi noi siamo orgogliosi di voi per quello che fate e naturalmente dobbiamo ringraziarvi per l'impegno che ci mettete perché veramente è un impegno enorme e quindi senza di voi Agropoli non sarebbe la stessa. Agropoli 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 Lasciamo vedere la certificazione che vi serve è questo è qui e ve lo dico ecco qua e vetti e laADIN grazie di Dio buona giornata buona giornata buona giornata a voi grazie pagatevi pure l'appunto aspettate un momento né ammo finire dispettate un momento atene purà nato l'azzo vi chiedono un certificato di residenza e qui le cose cambiano per il rilascio di questa certificazione occorre un contrassegno telematico da 16 euro contro a chi? contro a nessuno, che contro? un contrassegno telematico, ma la marca era a bollo così si chiama questo è una serata che si fa con il cuore perché siamo tutti incoraggiati da che cosa? dalla croce rossa rossa come? il fuoco, l'amore l'amore che arde che arde ardentemente è questa ardesia che ci porta in questa palla e ci dice non può essere che questa vita mi conduce a una vita eterna io, che cosa faccio? non posso stacca comunque questa è una serata che è una serata d'amore fatta per amore solo per amore infatti questa sera ci saranno molti servi per amore qua che verranno si, si, li sono convinto e sta cosa li sono convinto tu no? come no? io sono convinto prima di te sei convinto? che verranno molti servi per amore siamo convinto? c'è cazzolo, servo per amore schiavo per amore ma servo per amore aspetta vai giù servo vai chiane chiane no mai servo dell'amore no no ma non è essere protagonista o almeno avere pare dignità con la donna capito? si si serve se sei condizionato no ma non è questo non è riferito a questo l'amore l'amore è l'amore è l'amore è l'amore è delle briciole delle cose Amore sinonimo senso. Scusate, si sta parlando al Berico, guarda, guarda, ora Berico parlo, qui parliamo sempre a Grillo. Ma uno deve parlare. Noi abbiamo parlato, io sono il presidente della Croce Rossa, ha già fatto fuori a Gianna. Ma c'è mia domani la Croce Rossa, la mia mancia è cattata. E Gianna sapeva tu una cosa. E Gianna sapeva tu una cosa di scarpare. Ma chi vuole venire dalla Croce Rossa deve venire a parlare con me. Siamo gente speciale se ci spartiamo un pane con loro. Siamo gente speciale se non piatta cavori con solo. No. Siamo gente normale che seguiamo i consigli di cuore. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.